A Marche Nord la terapia intensiva resta sotto controllo sette pazienti di cui cinque non vaccinati, il punto con il primario Michele Tempesta. Evasione fiscale nei guai un sessantenne titolare di una ditta di apecchio, la finanza sequestra bene e denaro per oltre 350 mila euro. Spaccio di droga, evasione, violenza e resistenza pubblico ufficiale, arrestate cinque persone in diverse operazioni della compagnia Carbinieri di Fano. Divieto di fumo e molte più salate perché guida col cellulare, cambio delle regole con le nuove modifica, il codice della strada. D'accordissimo perché è una cosa indecorosa, nessuno controlla e molti lo usano ancora nonostante poi ormai le macchine abbiamo tutti il bluetooth. Questa sera a Fossombrone il primo consiglio comunale con il giuramento del neosindaco e la nomina dei quattro assessori Massimo Berloni tera per sé diverse deleghe tra le quali la sanità. Turna tra confermi e novità la fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, Chef Stellati, personaggi dello spettacolo e un nuovo format dell'evento, il premio Scela d'Oro andrà a Moreno Cedro. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, apriamo il nostro telegiornale con un incidente mortale accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via Cattedrale a Fossombrone dove ha perso la vita un uomo sulla cinquantina d'anni. Nello scontro sono rimaste coinvolte una moto e una Fiat Panda e ad avere la peggio purtroppo è stato il Centauro. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri, tuttora sul posto, sul luogo dell'incidente oltre ai sanitari e anche alla polizia locale di Fossombrone. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Ed ora passiamo alla situazione dei ricoveri in terapia intensiva negli ospedali di Marche Nord che resta sotto controllo. Oggi Angelica Panzeri ha fatto il punto con il primario Michele Tempesta. Nonostante la curva dei contagi ieri nelle Marche abbia rialzato la testa, con 104 nuovi casi e un tasso di positività al 6,3%, a Pesaro dal punto di vista dei ricoveri la situazione all'ospedale Marche Nord resta sotto controllo. Come spiega ai nostri microfoni il dottor Michele Tempesta, direttore di rianimazione e anestesia, nella stessa azienda ospedaliera. Ad oggi abbiamo 7 ricoverati, di cui 2 vaccinati e 5 non vaccinati. Uno vaccinato ma solo prima dose, si è malato due giorni dopo aver fatto la prima dose di vaccino, quindi presumibilmente era già malato mentre faceva la prima dose di vaccino. Rispetto a un anno fa i ricoveri sono diminuiti sicuramente. In questo periodo avevamo già, mi sembra di ricordare, 12-15 pazienti ricoverati, ma soprattutto gli ingressi sono molto diminuiti. Abbiamo ricoverato gente che è dentro da un mese, un mese e mezzo per la gravità della patologia, ma nuovi ricoveri sono molto minori. La campagna vaccinale procede celermente, ma sottolinea il dottor Tempesta, la guardia non va abbassata, poiché il virus non è ancora sconfitto. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, però un conto è il contagio. Il vaccino permette di bloccare l'avanzare della malattia in forma grave. L'ospedalizzazione è quello che ci interessa. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al Covid. Si tratta di una donna di 88 anni di camerino. I nuovi positivi invece sono 100. In testa per il numero di contagi c'è la provincia di Ancona con 33, mentre a Pesaro Urbino se ne contano 23. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 54 in totale, meno 2 rispetto a ieri. Cala leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre resta stabile quello dei degenti in semi-intensiva, che sono 14. A Cartoceto i carabinieri di Colli al Metauro hanno arrestato per il reato di evasione una persona del posto sottoposta ai domiciliari. L'uomo si era allontanato da casa senza autorizzazione, ma a finire manette è stato anche un forse impronese per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo ubriaco avrebbe tenuto comportamenti molesti nei confronti della clientela di un esercizio pubblico e nell'intervento un militare ha riportato la distorsione di un braccio. Il Tribunale di Urbino l'ha condannato a sei mesi di carcere. Invece i carabinieri di Mondavio hanno arrestato due giovani della Valcesano per detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. I ragazzi che viaggiavano a bordo di un'auto sono stati fermati e perquisiti. Avevano 65 grammi di hashish, una dose di cocaina e un bilancino di precisione. Il Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti condannandoli alla pena di otto mesi di reclusione e 2000 euro di multa. Con la stessa accusa è stato arrestato anche un giovane di Mondolfo che nell'auto aveva 250 grammi di marijuana e altra droga, nonché un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato condannato a un anno di reclusione e 3.000 euro di multa. Si è reso responsabile di una consistente evasione fiscale l'imprenditore titolare di una ditta edile di Apecchio. Al 60enne la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e denaro per oltre 350.000 euro. Tutti i dettagli nel servizio di Letizia Marchionni. La Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del Tribunale, ha eseguito la confisca di quote di proprietà di sei fabbricati, sette terreni e saldi nei conti correnti, per un totale di circa 353.000 euro nella disponibilità di un imprenditore edile sessantenne della zona dell'Urbinate, condannato per evasione fiscale. L'indagato, infatti, aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2011. Dopo una verifica fiscale effettuata dalla Compagnia di Urbino alla ditta, situata da Apecchio, di cui l'uomo è titolare, i finanzieri hanno rilevato imposte e vase superiori alle soglie previste dalla normativa penale ed hanno informato la Procura della Repubblica per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni. Le indagini condotte dall'autorità giudiziaria hanno portato l'imprenditore alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Urbino e dall'emissione di un decreto di confisca di denaro e beni fino alla concorrenza dell'importo dell'evasione fiscale. La Guardia di Finanza, infine, ha svolto le indagini per individuare le concrete attuali disponibilità economiche dell'uomo tramite accertamenti patrimoniali. Questo ha permesso non solo di individuare e confiscare tutti i conti correnti presentanti saldi attivi, ma anche di risalire alle numerose possidenze immobiliari dell'uomo, consentendo di recuperare gli importi oggetto di evasione. Ancora cronaca, la Polizia di Senigallia ha arrestato nella notte un cinquantenne per spaccio di droga. L'uomo, ufficialmente un operaio edile, è stato fermato nella sua abitazione che si trova a nord della città. Nell'auto, gli agenti hanno rivenuto un borsone con due involucri contenenti 600 grammi di cocaina e un coltello a serramanico. In casa, poi, sono state trovate diverse dosi di cocaina e tutta la strumentazione necessaria al confezionamento della droga, nonché diverse migliaia di euro ritenute provento dello spaccio. Il materiale e il denaro sono stati sequestrati e la droga, se messa nel mercato, avrebbe fruttato circa 100 mila euro. Il cinquantenne è stato portato nel carcere di Montacuto, in attesa del giudizio di convalida, ma proseguono le indagini per risalire a clienti e fornitori. Ed ora la protesta sul cambio di viabilità nel quartiere della trave a Fano. Oggi in comune il sindaco e gli assessori si sono confrontati con i residenti, con i consiglieri della Lega e i vigili urbani. Voi residenti, che cosa avete chiesto questa mattina, Giorgio? Dopo aver fatto una premessa su quello che è stato fatto, abbiamo chiesto due cose semplici, una o l'altra. Un tutor, perché secondo la legge dell'anno scorso si possono mettere anche nei centri urbani. Se non fosse possibile e il prefetto non dà l'ok, allora l'alternativa sono vigili, 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 durante le ore di punta, a fare prevenzione prima e poi multe. Ma in entrambi i casi togliere quello che è stato realizzato? Naturalmente sì, perché togliendo tutto si ritorna all'antico, le biciclette possono passare di nuovo come vogliono, le carrozzine possono passare, cosa che in questo momento è impossibile perché è estremamente pericolosa. Che cosa è emerso dall'incontro di questa mattina? I residenti, alcuni residenti, con noi consiglieri comunali della Lega, io e Gianluca Chilare abbiamo incontrato la Giunta e abbiamo cercato di capire se questa soluzione del ristringimento fosse l'unica soluzione possibile o ci fossero delle alternative. Noi abbiamo proposto l'utilizzo di un tutor che permette di misurare la velocità media delle auto, quindi è possibile calcolare il tempo di transito dall'inizio di via trave alla fine e stimare la velocità con cui è stata attraversata. Quindi il sindaco si è fatto carico di sentire il prefetto perché in questo caso l'installazione di queste apparecchiature richiedono l'autorizzazione del prefetto. Quanto è stato speso complessivamente per l'intervento e quali sono ad oggi i disagi? Per le due strettoie e quello che io chiamo il frisbee della discordia è stato spero circa 40 mila euro. E quello che è emerso durante l'incontro con i residenti, le difficoltà, i disagi che stanno subendo i residenti dovuti a questo intervento sono essenzialmente legate alla difficoltà che hanno i bambini con le biciclette, i genitori con le biciclette e i disabili a dover affrontare queste strettoie perché per evitare il diretto contatto con le auto che strecciano molto vicine, che passano molto vicine, sono costretti a passare lateralmente a girare l'ostacolo dove c'è poco spazio e non è predisposto sia per le biciclette che per le carrozzelle. Vorrei aggiungere una cosa, spero che questa esperienza ci aiuti a non fare lo stesso errore su altre strade come quella per esempio di Brigata Messina in cui si sta pensando anche lì di applicare le strettoie. Noi speriamo che questa lezione serva per evitare altri errori. In Parlamento in questi giorni si sta discutendo anche sull'inasprimento delle sanzioni per chi guida con il cellulare in mano. Noi su questo abbiamo chiesto il parere dei pesaresi che a quanto pare sono tutti d'accordo. D'accordissimo, d'accordissimo perché è una cosa indecorosa, nessuno controlla e molti lo usano ancora nonostante poi ormai le macchine abbiamo tutti il bluetooth quindi uno se vuole parlare parla col bluetooth. C'è anche la sospensione della patente e la degurtazione di 5 punti. Magari, sarei contentissima. Arriva la nuova stretta su smartphone, tablet e apparecchi che allontanano le mani dal volante alla guida. Per il Parlamento la revisione del codice della strada introdotta nel decreto infrastrutture dovrà passare anche da qui. Le commissioni ambiente e trasporti della Camera hanno già iniziato ieri ad esaminare gli oltre 400 emendamenti al testo arrivati dai partiti che hanno segnalato le loro proposte prioritarie. In particolare nel caso dell'uso del cellulare alla guida si parla di un inasprimento delle sanzioni che potrebbero ammontare dai 422 ai 1697 euro. Attualmente invece la multa oscilla tra i 167 e 661 euro. In più sarà prevista la sospensione della patente da 7 giorni a 2 mesi con la degurtazione di 5 punti. Per chi è recidivo nell'arco di due anni la multa sarà aumentata e ammonterà dai 644 a 2588 euro mentre la patente verrà sospesa da 1 a 3 mesi con 10 punti sottratti sulla patente. Un tema che trova d'accordo anche i cittadini pesaresi che su questo ai microfoni di Fano TV hanno espresso il loro parere. Chi guida non deve usare il telefono quindi sono intorto completamente quelli che guidano non devono ascoltare la musica e non devono parlare al telefono e devono avere la cintura non di castitare la cintura da questa qua. Ci distrae uno non c'è niente da fare e vieni a pensare altre cose non stai lì a guardare la strada. Fa molto bene perché gli incidenti il 70% sulle macchine sono per chi parla a cellulare così anche in autostrada. Quindi è giusto aumentare le sanzioni? Le sanzioni e il ritiro di patente per 5 anni. Non voglio discutere sui tempi ma penso che bisogna farsi sentire in qualche maniera perché qui sta dilagando la maleducazione quindi. La signora cosa pensa? Perfettamente d'accordo anche se io non guido però vedo che i miei figli hanno tutte le cellulare cioè possono parlare guidando senza rispondere che è molto pericoloso perché comunque uno si distrae e basta una sciocchezza cioè non vedo perché uno debba mettere in pericolo la vita proprio altrui per rispondere al cellulare. Quindi anche il ritiro della patente è una cosa molto grave perché poi lo dimostrano le statistiche che tanta gente ha perso la vita o l'ha fatta perdere ad altri quindi non mi pare che ci siano obiezioni da fare. Perché se ne vedono un sacco di persone che viaggiano con questo cellulare magari si fermano lo stop e ripartano sempre col cellulare e naturalmente questo crea che uno si distrae e magari va anche a sbattere. Torniamo a parlare della diatriba sulla palestra di Cucurano perché dopo l'attacco della Lega e le lamentele del presidente della Fuzza l'Olimpia Franco Biagioli escluso dall'impianto sportivo oggi a dire la sua è Giuseppe Cocciaro direttore sportivo della ginnastica Alma Juventus Fan a cui sono stati assegnati quegli spazi tanto contesi. Sentite. Giuseppe inevitabilmente siete finiti anche voi al centro di queste polemiche. Che cosa risponde? Purtroppo siamo finiti in mezzo ma io non posso far altro che ringraziare il sindaco e l'assessore allo sport di Fano in quanto hanno dato la casa ad uno sport e ad una società sportiva che per 40 anni non ha mai chiesto niente in quanto è sempre dal 1981 che lavoriamo con dei capannoni presi da noi. Stiamo ancora pagando il leasing dove sono passati migliaia in questi anni migliaia di bambini fanesi a fare attività di ginnastica artistica. E come ha già spiegato anche l'assessore Brunori questa palestra si adatta alle vostre esigenze per questioni di altezze. Esatto. Fino a qualche tempo fa i ragazzi appunto erano più piccoli e al trampolino spingevano diciamo non tanto e non arrivavano a toccare il soffitto. Adesso sono cresciuti tant'è vero che fra pochi giorni partiamo per i campionati del mondo a Baku in Azerbaijan sono cresciuti dicevo e dove eravamo prima toccavamo il soffitto e non ci si poteva più allenare perciò eravamo veramente in mezzo alla strada. E quindi questi spazi per voi sono fondamentali per preparare i campionati? Assolutamente fondamentali e noi stiamo preparando in questo momento il campionato del mondo a Baku in Azerbaijan ma soprattutto stiamo preparando in questo quadriennio le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 e se non avevamo questo spazio non potevamo assolutamente allenarci. Come ripeto eravamo in un capannone dove l'altezza non ci permetteva di allenarci perché tutti i ragazzi e le ragazze toccavano il soffitto. Che messaggio vuole lanciare alla cittadinanza? Io come ho detto prima mi dispiace di essere stato in mezzo a tutto questo caos perché secondo me l'amministrazione comunale ha fatto quello che doveva fare cioè ha dato la casa ad uno sport che non ce l'aveva dove si allenano bambini anche fanesi oltre che da tutte le altre parti d'Italia anche e non vedo il perché non dovevamo averla noi perché dovevamo rimanere fuori da tutto dato che siamo una società fanese. Ieri la giunta regionale ha adottato un provvedimento per realizzare nelle Marche un nuovo ospice per le cure palliative pediatriche, una struttura che ancora oggi manca nella nostra regione. Nel momento l'assessore Saltamartini ha identificato la sede del servizio nell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona e oggi i consiglieri Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri hanno presentato un emendamento per indicare Fano come sede strategica per questo centro così come ha auspicato da nove anni anche dall'associazione Maruzza. Tra i siti possibili rientrano l'ex Vittoria Colonna e l'ex ospedaletto. Fano si legge in una nota dei consiglieri alla città dei bambini e delle bambine ma non solo perché dispone di professionalità maturate negli anni all'interno del vicino ospice di Fossombrone nell'ambito delle cure palliative per adulti ed ha la possibilità di utilizzare spazi adeguati a dimensioni di bambino. A Qualagna, capitale del Tartufo, domenica prenderà il via la 56esima fiera nazionale dedicata a questa eccellenza marchigiana. Conto alla rovescia per l'avvio della 56esima fiera nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che celebrerà il re incontrastato della tavola a partire da domenica 24 ottobre. Il profumo del Tuber Magnatum Pico torna ad essere il grande protagonista all'interno di un nuovo format con più di 50 eventi tra cooking show, premi, mostre fotografiche, incontri culturali, iniziative per bambini e spettacoli. La manifestazione è stata presentata nella sede della regione ad Ancuna. Noi dobbiamo spingere per portare la qualità della nostra terra, farla conoscere, farla assaggiare e caratterizzare un turismo e un'accoglienza che sia in linea con quelle che sono le potenzialità della nostra regione. La regione Marche vuole esaltare quello che noi abbiamo da offrire perché riteniamo che sia il bigliettino da visita più importante per restare competitivi. Piazza Enrico Mattei sarà il fulcro del commercio e della borsa del tartufo con le quotazioni in tempo reale. A differenza degli anni passati non si gusterà più negli stand, in piazza e in piedi ma in una nuova area attrezzata. Il pala tartufo ospita il riso tartufo per rendere unico il momento dedicato all'assaggio con i ristoranti locali e i sei chef per un totale di 300 posti a disposizione dei visitatori. Il salotto da gustare rivivrà grazie ai cooking show con i maestri della cucina italiana da Alessandro Negrini a Luca Montersino, da Giorgione ad Antonella Ricci e tanti altri. Domenica 7 novembre alle ore 18 il sindaco Luca Lisi conferirà la Ruscella d'Oro 2021 a Moreno Cedroni, due stelle Michelin, tra gli chef italiani più innovativi della cucina internazionale. Tra i grandi ospiti della fiera anche Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la notizia che si esibirà in uno spettacolo dialogo con il pubblico presentando il suo Non è un libro, un'opera letteraria autoprodotta i cui proventi verranno interamente devoluti alla Croce Rossa italiana per l'acquisto di un'autoambulanza. Beh abbiamo questa grande opportunità e anche questa grande fortuna di ereditare una tradizione che è arrivata a superare il mezzo secolo di storia e quindi dobbiamo conservarla e valorizzarla. Nei nostri obiettivi c'è quello di creare anche una strategia condivisa per il tartufo, abbiamo un portale che rappresenta in modo comprensivo tutti gli eventi, tutti i territori che hanno a che fare con il tartufo e domenica 24 iniziamo con l'inaugurazione della festa di Acqualagna con una grande opportunità per queste nostre terre, per questi nostri produttori e poi soprattutto che come beneficio arriva fino alla somministrazione ai ristoranti i quali hanno ormai una competenza, una specializzazione che merita di essere veramente visitata. Quindi l'invito è a venire ad Acqualagna domenica per scoprire questo grande prestigioso prodotto. Si sta pensando inoltre di realizzare un distretto legato al tartufo che verrà presentato ad Acqualagna. Per il sindaco la parola chiave di questa edizione sarà emozione, otto giorni di gusto e passione per un'esperienza innovativa che sa unire gastronomia, arte e cultura. Molte agenzie di viaggio ci stanno contattando, quindi questo significa sicuramente un numero notevole di presenze. Voglio rassicurare tutti che abbiamo messo in atto un'organizzazione imponente per ciò che riguarda la normativa Covid. Abbiamo 60 persone impegnate giornalmente proprio per il controllo, per la facilità d'accesso eccetera. Ma se si arriverà in Acqualagna in sicurezza, si può arrivare se avrà il Green Pass ma verrà controllato solo ai visitatori all'interno, non a tutti. Quindi si può comunque accedere liberamente, questo è importante. I nostri ristoratori, i nostri commercianti sono in fibrillazione perché dopo questo anno di stop non vedono l'ora di ripartire alla grande, come già sta accadendo da mesi in Acqualagna. Perché abbiamo un notevole aumento dei flussi turistici in tutti i weekend, grazie ai visitatori che vengono da tutta Italia a gustare il nostro prelibato tartufo. Ai cantieri Rossini il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha aperto gli stati generali del turismo, un'occasione come ogni anno per programmare e fare il punto sul futuro. Avanti con la cultura, la musica, la sostenibilità e i grandi eventi per guardare con fiducia al 2022, ha detto il primo cittadino che oltre agli investimenti sugli impianti sportivi ha annunciato una grande novità. Pesaro sarà protagonista delle guide Lonelli Planet che a luglio porterà qui il suo Ulisse Fest. Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Pina Andreoli e Giovanni Mencucci che oggi festeggiano 65 anni di matrimonio. Nozze di platino per questa coppia residente a Tombaccio di Fano. Il lunedì prossimo a primo cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Vedete anche in questo cartello i numeri di telefono per intervenire in diretta. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla prima camminata in rosa per la prevenzione e cura del tumore al seno. Questo speciale è stato condotto da Maria Elena Delbianco. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani. Grazie a tutti.